Una saccatura sul Mediterraneo centrale provoca la rimonta di un campo di alta pressione. Al contempo un flusso perturbato atlantico scorre a latitudini superiori. In Toscana martedì 4 dicembre molto nuvoloso coperto con possibili precipitazioni di debole intensità, più frequenti nella notte. Venti di libeccio sulla costa, occidentali sulle zone interne, mari mossi o molto mossi, temperature in aumento. In provincia di Lucca cielo molto nuvoloso coperto con piogge diffuse. A Lucca e sulla piana minima 10, massima 16 gradi. A Castelnuovo e zone montane minima 8, massima 17. A Viareggio e sul litorale minima 11, massima 19 gradi.